Trasforma Italia e Trasforma Europa hanno dedicato questi mesi a dare la voce e la parola ai lavoratori e alle lavoratrici in alcuni paesi, in Francia, in Germania e in Italia. Ci siamo chiesti che cosa succede dentro il mondo del lavoro, del non lavoro, del lavoro precario, in questa situazione che dopo la grande crisi del 2008 ora vive il dramma del Covid e abbiamo deciso di chiederlo direttamente a loro. Naturalmente noi abbiamo la consapevolezza di quali sono i dati della condizione di vita, di lavoro in Europa perché le statistiche ce lo dicono, perché ce lo dicono i sindacati e anche gli organismi ufficiali. C'è una precarizzazione ancora più forte del lavoro, un impoverimento ancora più forte del lavoro, una dipendenza ancora più forte da quelle che sono le condizioni che i vari padroni pongono alle lavoratrici e ai lavoratori. C'è un'incertezza massima del futuro. Ma ci siamo chiesti loro che cosa pensano di questa condizione, come pensano di affrontarla, come la affrontano perché sono costretti, devono giorno per giorno affrontarla e quale idea di futuro anno. Per questo abbiamo fatto diverse interviste, diversi colloqui in questi tre paesi, li abbiamo messi a confronto e adesso pensiamo di poterli presentare e ragionare insieme a tanti e tanti che si occupano della condizione del lavoro in Europa ma insieme soprattutto a lavoratrici, lavoratori, giovani, anziani, precari, disoccupati, immigrati che vivono nel mondo del lavoro e che cosa bisogna fare per cambiare la situazione. Questo è il lavoro che vi consegniamo.